Un punto per uno non fa male a nessuno ma, aggiungiamo noi, potrebbe fare male ad entrambe. L'uno a uno tra Acri e Marina di Schiavonea in pratica blocca le rispettive posizioni in classifica. L'Acri, che peraltro veniva da un periodo di risultati utili consecutivi, grazie anche ai recuperi che ci sono stati, quindi resta invece al quarto posto, a nove punti di distacco dal Belvedere terzo, che però ha anche due partite da recuperare. Mentre la Marina di Schiavonea potrebbe essere ancora più contenta perché un punto fuori casa contro una squadra di testa e far proseguire il periodo buono, proprio come dicevamo, con questi risultati di pareggio ottenuti anche con squadre di alta classifica, tra cui quello contro il Praia Tortora. La partita in pratica ha vissuto due momenti importanti. Nel primo tempo l'Acri è andato in vantaggio al sesto con Lopez, ma nella ripresa alla settantaseesimo Tramontana ha portato il gol del pareggio alla squadra ospite che, come dicevamo, ha cristallizzato le posizioni. Quarto l'Acri, ancora penultimo insieme al San Marco e al Caccurese e alla Marina di Schiavonea.